Una sorpresa speciale per tutti i follower del canale, un DJ set esclusivo realizzato all'aperto in una location molto interessante. Sunset Classics è il titolo del mio DJ set, è una raccolta dei migliori brani degli ultimi 10 anni secondo me per quel tipo di fascia musicale e sonora che è l'aperitivo, ovvero come io intendo un DJ set pomeridiano magari all'aperto in estate con un bel tramonto, un bel sottofondo per quello che può essere ma anche proprio una fase di inizio serata insomma per creare poi una situazione un pochino più interessante. E questa è la selezione dei migliori brani degli ultimi 10 anni che hanno in qualche modo un significato per me. Ci sono un po' vari stili dalla dip, dal qualcosa di un po' tribal a qualcosa di molto elettronico e nordico. Ho cercato di condensare un po' vari gusti, varie influenze, anche varie tipologie sonore perché appunto ci sono anni diversi quindi anche modi e tendenze che si accavallano, brani cantati e non, insomma ho creato una selezione di ciò che mi piace di più per questo tipo di serata o di porzione di serata. Il DJ set è disponibile soltanto sul mio sito web www.djneige.com al link che riporto in descrizione. È un DJ set audio e video nel quale si vede innanzitutto me che suono, cosa che purtroppo non è molto presente sul canale ma soprattutto per ragioni di copyright ed è per questo che il DJ set è in versione integrale soltanto sul mio sito web. Ti invito a dare un'occhiata a scaricarlo a commentarlo a fammi sapere tutto quello che ti passa per la testa perché mi fa piacere in qualche modo entrare in contatto anche da un punto di vista musicale. Molto spesso ecco si parla di come realizzare un buon DJ set quello che è un DJ set d'aperitivo ecco che ho fatto una raccolta dei brani che in qualche modo hanno un significato per me che mi sono piaciuti di più che suono sempre volentieri. Fammi sapere che ne pensi. L'unica cosa che chiedo è di lasciare l'indirizzo email appena si apre la pagina c'è il form per lasciare l'indirizzo email in modo tale da essere iscritti a quella che è la mia newsletter non mando tante cose anzi ne mando poche ma cerco di essere piuttosto efficace però in questo modo possiamo anche entrare in contatto diretto e quindi mi fa piacere appunto qualsiasi tipo di commento e neanche iniziare a scriverci ad avere un tipo di relazione extra YouTube. Fammi sapere cosa ne pensi e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.